Passa un invito al cessate il fuoco nelle guerre in corso, la mozione per un salario minimo comunale, l'incentivazione dell'uso delle biciclette per andare al lavoro, ma è un question time della comune di Taranto di Mezzato ancora una volta, i numeri per la validità della seduta anche se risicati ci sono, la contemporanea convocazione di una riunione di giunta suota l'aula che manca di sindaco e assessori, ovvero i naturali destinatari delle domande dei consiglieri comunali, una contemporaneità poco gradita dai presenti ma sarebbe ripreso il confronto tra le diverse anime della maggioranza. Il question time approva così una serie di mozioni di indirizzo come quella per il cessate il fuoco del consigliere Luca Contrario del PD. Un piccolo segnale che secondo me in questa terra, che è una terra di pace, è un segnale significativo e che va incontro anche alle esigenze di una gran parte della popolazione che chiede al mondo di bloccare i conflitti. Ok anche per la proposta di un salario minimo comunale del consigliere Antonio Lenti dei Verdi si è assenuti a 13 a favore, tra cui il socialista Paolo Castronovi della maggioranza. Quando ci sarà la norma sicuramente sarà applicata anche dal comunitario, però è un segnale politico forte che vuol dire che anche il comunitario in questo momento sostiene questa battaglia a livello nazionale. Approvato anche il progetto Bike to Work promosso da Francesco Battista della Lega con 19 voti favorevoli e un assenuto. Darebbe la possibilità ai lavoratori che vogliono andare in bici appunto al lavoro di avere degli sconti sull'atario o comunque sia degli incentivi per poter utilizzare il veicolo, un veicolo come la bicicletta.